Un saluto a tutti i lettori di Ribble.com e gli amici di Oronix Italia, siamo all'interno dello stand Philips per continuare a mostrarvi le novità introdotte in occasione della fiera l'IFA 2013 di Berlino. Alle mie spalle abbiamo il primo modello Ultra HD, che significa quasi 4000 pixel orizzontale, mod serie 9000, disponibile in due diverse dimensioni, 84 pollici, che è quella alle mie spalle, 65 pollici, lo troviamo di lì, ovviamente non ve lo mostriamo, il televisore è lo stesso, cambia il polliciaggio. Cosa dire di questi due televisori? Ovviamente è il primo tentativo di Philips nell'Ultra HD, ovviamente la risoluzione non può che essere ottimale vista l'Ultra HD, ottimi prestazioni quindi sia dal punto di vista dei contenuti visivi ma anche audio. Questi due prodotti sono lanciati in occasione dell'IFA 2013 ma sono già disponibili nel mercato sia in Europa che ovviamente anche in Italia, due diversi range di prezzo naturalmente, 4999 euro per il modello da 65 pollici più indirizzato al mercato consumer, 14999 euro per la versione da 84 pollici che ovviamente è leggermente più cara visto le dimensioni maggiori. Per il momento dello stand Philips è tutto, per readball.com Roberto Vadala.